Alla fine siamo arrivati lì, quasi che ci è presa la paura, invece dobbiamo essere più grintosi, più concentrati perché è proprio alla fine che si giocano le partite importanti come queste. Abbiamo visto che loro sono entrati più concentrati, cioè sono praticamente mantenuti più concentrati, hanno fatto quindi un rush finale e questo rush finale gli ha fruttato tre set. E noi abbiamo perso tre set in modo molto simile.